E' vecioso, poi ho frenato, sono passato a sinistra, però ormai era troppo tardi. Hai dovuto frenare? Sì, sono uscito a sinistra e l'ho rimontato gli ultimi 40 metri, però troppo tardi. Comunque avere un basso che mi tira la volata è un onore e non riuscire a sfruttarlo a dispiace. Ti ha tirato da dove a dove? Ha tirato praticamente gli ultimi 7 chilometri, sempre lui e altri due, però avere Ivan che tira per me sul finale è un onore e mi dispiace non essere riuscito a finalizzare al moto. Simone, com'era la tattica di gara? La tattica di gara era quella che avete visto, abbiamo lavorato tutta corsa per riuscire a sgranare il gruppo il più possibile. Ci siamo riusciti, poi sul finale Peter Sagan doveva fare uno sprint e io tirargli lo sprint, poi mi sono trovato davanti con basso e allora abbiamo optato per fare la volata per me. Ecco, scusa, l'ultimo chilometro era già in testa adesso? Sì, sì. Mi ricostruisci l'ultimo chilometro? Io tiravo a Ivan, ai 300 metri si è alzato sui pedali e ha aumentato ancora la velocità, è partito ballando, io stavo uscendo, Pietro Polli mi è uscito sulla sinistra, vicioso a destra, sono rimasto in mezzo a loro due per 50 metri, ho gridato in tutti i modi, ho tirato i freni e sono uscito a sinistra ma ormai era troppo tardi. Se no vincevi? Vincevi proprio vincevi, se guardiamo la tv, se ci fosse l'elicottero che inquadra, venivo su a doppia. Va bene, è la prima. Quanti anni è che non arrivo a Vincenzo? Non ti arrivo. Da Varese? Non ti arrivo, quindi mi passa un po' di tempo, già arrivo a giocartela, va bene. Vada va, che di?